Nel processo di richiamo di un'informazione subentra temporaneamente una delle fondamentali funzioni cerebrali, chiamata oblio, un meccanismo necessario che difende la nostra mente dall'eccesso di informazioni. Il giovane Ireneo Funes non possiede più questa funzione, ricorda ogni cosa in modo prodigioso, ogni dettaglio è incastonato come una fotografia sempre disponibile. Ho più ricordi io da solo di quanti ne abbiano tutti gli uomini insieme, da che mondo è mondo. E disse anche i miei sogni sono come la vostra veglia. E anche la mia memoria, signore, è come un deposito di rifiuti. Se da un lato Funes riesce a ricordare ogni cosa con estrema facilità, dall'altro non è in grado di formulare idee generali. La sua memoria registra solo particolari e non concetti compiuti. Questi, non dimentichiamolo, era quasi incapace di idee generali platoniche. Non solo gli era difficile comprendere come il simbolo generico cane potesse desegnare un così vasto assortimento di individui diversi, per dimensione e forma, ma anche l'infastidiva il fatto che il cane delle tre quattordici visto di profilo avesse lo stesso nome del cane delle tre un quarto visto di fronte. E ancora, aveva imparato l'inglese, il francese, il portoghese, il latino, sospetto tuttavia che non fosse molto capace di pensare. Nel mondo sovraccarico di Funes non c'erano che dettagli, quasi immediati. Questa condizione lo conduce all'isolamento e all'incomunicabilità. La sua portentosa capacità di memorizzare ogni dettaglio rende Funes quasi una creatura mitica. Il Reneo aveva 19 anni, era nato nel 1868, mi parve monumentale come il bronzo ma antico come l'Egitto, anteriore alle profezie e alle piramidi. Ma ogni ricordo sottende dolore, poiché Funes discerneva continuamente il calmo progredire della corruzione, della carie, della fatica, notava i progressi della morte, dell'umidità. Era il solitario e lucido spettatore d'un mondo multiforme, istantaneo e quasi intollerabilmente preciso. Gli era molto difficile distrarsi dal mondo. Funes, sdraiato sulla branda, nel buio, si figurava ogni scalfitura e ogni rilievo delle case precise che lo circondavano. Il racconto del narratore è nei dettagli, tuttavia ciò è nulla se paragonato alle infinite possibilità di Funes. La memoria, essenza della storia, pone al contrario Funes al di fuori della storia stessa, senza poter stabilire un rapporto con il proprio tempo e spazio. Egli contraddice la storia nel suo aspetto evolutivo, e in tal senso l'immobilità fisica di Funes, dopo essere stato travolto da un cavallo, si trasforma in immobilità di pensiero, in incapacità di comprensione ed empatia per il prossimo. L'immortale dell'Alef è il suo gemello, immobile, su un ciglio, seduto, aspetta perché anche se non fa nulla resta sempre nella possibilità di poter compiere tutte le azioni. Questo è l'Eterno, un mostruoso eccesso. Il racconto per me è una riflessione sulla benedizione dell'ublio, che mette in luce la maledizione di Funes. L'uomo dimentica per ricordare, e Ireneo, il senza passato, affronta ogni istante la sua nemesi. Fino alla morte, schiacciato dal peso del ricordo, esala l'ultimo respiro. Grazie a tutti. Grazie a tutti.